Non è la vita che ti avevo promesso. Ti avevo promesso una vita di magia e di meraviglie. Guarda quelle due bambine. Ho tutto quello che voglio proprio qui. Se poteste avverare un sogno, cosa vorreste? Un leone. Un elefante. Un gigante, alto tre metri. Ragazze, credo di avere un'idea. Immaginate un luogo in cui le persone possano vedere cose mai viste. Questa impresa è alquanto bizzarra. Il pubblico è affascinato da cose insolite e macabre. Va bene. Mi presento il famoso gigante irlandese. Non sono irlandese. Sull'accento ci si lavora. Rideranno di noi. Ridono già di noi. Tanto vale farsi pagare. Quando è che ti basterà? Non si tratta di me. Non dategli ascolto. Non capiscono per ora. Ma capiranno. Metterete persone di ogni tipo sul palco come se fossero uguali a voi. Collezioniamo proteste ogni giorno. Sì, giusto. Mastery. Rischi tutto quello che hai costruito. E come l'ho costruito? Non serve che tutto il mondo ti ami. Bastano poche persone buone. Non conosci vergogna? Padre, il mondo sta cambiando e mi rifiuto di far parte del vostro. Ci hai messi sotto i riflettori. Ci hai dato una vera famiglia. Nessuno ha mai fatto la differenza restando come tutti gli altri. Ci hai messi sotto i riflettori.